Il tema di quest'anno sarà Lidi misteriosi e architetture a colori per la libera spiaggia di Roma. Chiamo qui per aprire i lavori di questa giornata il presidente Luigi Prestinenza Puglisi a presentare la quinta edizione dell'Ossia Auton School 2019. Quest'anno il workshop che abbiamo organizzato ha proprio come tema le libere spiagge di Ostia. Ci sono degli eventi collaterali, abbiamo cominciato negli anni passati con dei convegni, quest'anno e anche l'anno scorso abbiamo scelto una formula più agile, più agevole, che sono questi incontri registrati che servono poi, saranno una traccia, una documentazione. Un mezzo anche divulgativo, no? Un mezzo per promuovere queste idee che cerchiamo di far generare o alle quali cerchiamo di dare consistenza. L'Italia nel Mediterraneo ha un ruolo importante e la sua capitale deve averlo. Questo progetto è esistito e si è costruito gradualmente a secondo le varie scelte storico-politico dalla grande destra storica portata avanti in area giolittiana, completato poi da Mussolini che trova niente di più che un progetto già costruito, è un progetto che va dal 1870 e che finisce nel 1945. Questo posto si chiama prima Roma Marittima, si chiamerà poi Lido di Roma e avendo noi perso la seconda guerra maniale probabilmente uno degli elementi storici è che questo posto non si chiama, deve scomparire la parola Roma e si chiamerà Lido di Ostia. L'argomento di questo primo match è appunto riferito a Roma e ai territori difficili d'Italia. Credo che il problema sia più che altro delle maggioranze, nel senso che vado dietro pari pari a quanto diceva Giuliano Fausti Pocanzi. La questione oggi non è quella, secondo me, di chiedere al Presidente della Repubblica o del Senato, della Camera o al Capo del Governo se ritengono che questa poche migliaia di mare prospiciente Roma sia diverso rispetto alle altre migliaia di chilometri di coste d'Italia. Il problema è che questo è un paese che non ha identità da molti decenni, quindi noi ci poniamo il fatto stesso di porci il problema delle minoranze che sostanzialmente non esistono, cioè nel senso che le minoranze sono classificate dentro una legge che è quella del 97 in Italia, percepiscono anche dei contributi e sono quelle, 6-7 in tutta Italia, non è che ce ne siano tantissime. Possiamo solo fidarci di quello che è la nostra percezione quotidiana nei confronti della gente che viene a visitare i nostri musei o i nostri parchi e notare che per esempio c'è una grande, grandissima presenza francese per esempio dalle nostre parti sia a Selinunte che a Lilibeo, a Marsala dove adesso lavoro. Il fatto è che in Sicilia se sia ritardato sia nello spendere dei soldi sia nell'organizzare, nel portare avanti la progettazione, alla fine forse ritengo che sia un fatto positivo, perché non appena si cerca di migliorare i luoghi con dei progetti, certe volte magari affrettati nel farli, certe volte non di qualità, si rovinano quei paesaggi, quindi è meglio avere dei ritardi e non delle cose con poca qualità. Io quando penso alla burocrazia penso sempre al Cairo, non a Roma, ma al Cairo dove esiste un ufficio a piazza Tahrir che si chiama Mujamma, è un edificio enorme pieno di corridoi e gli egiziani si affannano a riferire delle pratiche burocratiche e questo è successo anche a me quando ero studentessa di lingua araba al Cairo, sono entrata in un edificio enorme e non sapevo veramente dove dirigermi per poter ottenere un permesso di studio dall'Università di Giza. Il problema è che l'economia italiana è un'economia un po' particolare, è fatta di microimprese, è fatta prevalentemente di microimprese. Da tecnico io lo dico, l'evasione è ormai prevalentemente un'evasione di necessità.